L'esperienza delle masserie didattiche tra le più interessanti espressioni del mondo agricolo pugliese è stata oggetto di studio degli operatori di fattorie didattiche della regione Basilicata ad Altamura con il consorzio Taste & Tour in Masseria, aziende agricole dedicate alla produzione ma al tempo stesso aperte alla comunità per creare un ponte tra la dimensione urbana e quella naturale. Noi che siamo della Basilicata dell'Asia abbiamo portato 64 nuovi operatori di fattorie didattiche che si aggiungono a quelle già iscritte nell'elenche regionale proprio per un'attività che serve a loro per ampliare la base produttiva e quindi le capacità delle singole aziende a porsi sul mercato e quindi a vedere soprattutto quello che c'è già nel circondario poiché chiaramente noi siamo aziende lucane e quindi in alcuni aspetti la Puglia ha già delle esperienze leader del settore. Si tratta di corsi che danno loro la possibilità di conoscere dal vivo quelle che sono le attività da poter proporre ai loro ospiti. Il concetto di fattoria didattica è un concetto che permette all'azienda di diversificare e di dare agli ospiti l'opportunità di vivere un'esperienza in Masseria. In questo caso sono particolarmente orgogliosa di aver potuto organizzare questo viaggio studio in Puglia per i colleghi della Basilicata ed è un modo per creare anche delle sinergie, delle collaborazioni che potrebbero avere degli sviluppi futuri tra territori diversi ma vicini da un punto di vista anche di tradizione e di cultura. Con il consorzio testa in torri in Masseria alcuni operatori della regione Basilicata hanno avuto la possibilità di venire qui da noi a Masseria Chilunno per un laboratorio didattico per conoscere meglio la nostra realtà e quali sono le tipicità pugliesi. Qui da noi oggi abbiamo organizzato una didattica del panzerotto hanno avuto la possibilità di impastare e conoscere la nostra ricetta tipica per poter fare il panzerotto e hanno avuto modo anche di conoscere la nostra realtà con la visita aziendale. Tutti gli operatori hanno avuto la possibilità di conoscere quali sono le realtà della Masseria didattica grazie anche alla nostra esperienza.